La medicina fisica e riabilitativa sta per avere un importante riconoscimento a livello mondiale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e noi ne parliamo con la professoressa Francesca Gimigliano che abbiamo incontrato qui a Torino per la quarta edizione del congresso della Società Italiana Guida. Professoressa Gimigliano, l'OMS e l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta per prendere una risoluzione importante sulla medicina fisica e riabilitativa, sulla riabilitazione, di che decisione si tratta? Grazie, noi siamo emozionatissimi in realtà la comunità riabilitativa a livello mondiale è super emozionata per questo perché per la prima volta durante un'Assemblea Mondiale della Sanità verrà approvata una decisione sulla riabilitazione, una decisione è che la riabilitazione deve essere parte integrante dei sistemi sanitari di tutti i paesi del mondo e la copertura, diciamo, delle prestazioni e riabilitazione non deve essere a carico del cittadino, quindi deve esserci un sistema di copertura per il cittadino, quindi non soltanto le persone che possono permetterselo avranno accesso alle cure riabilitative, ma la riabilitazione deve diventare un servizio per tutti e questo è estremamente importante proprio perché diciamo noi pensiamo all'Italia dove in qualche modo la riabilitazione non è perfetta però è garantita a tutti i cittadini in misura più o meno grande a seconda della patologia diciamo per cui afferiscono a un sistema riabilitativo, ma dobbiamo pensare che in alcuni paesi la riabilitazione proprio non esiste, non ci sono i professionisti della riabilitazione, non ci sono i fisiatri, non ci sono quindi proprio le risorse e le infrastrutture per diciamo prescrivere interventi riabilitativi e la riabilitazione è comunque una delle cinque strategie di cura della salute ed è considerata la strategia chiave per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile numero tre, cioè assicurare la salute e il benessere di tutte le persone nel mondo, quindi c'è veramente molta attenzione in questo momento. Capisco l'emozione anche perché lei come dicevo prima è presidente della società mondiale insomma quindi in queste cose ci crede molto e rimanendo sempre un po' a livello alto, così mi viene bene parlare con lei, la Global Musculoskeletal Alliance ha di recente prodotto un documento, una specie di linea guida per i governi riguardo appunto la riabilitazione, quali sono i messaggi chiavi di questo documento? Allora faccio una piccola premessa, la causa numero uno per cui le persone hanno bisogno di riabilitazione è la lombalgia, quindi in realtà un problema muscolo-scheletrico, la seconda causa è la riabilitazione post-fratture, quindi tutte problematiche muscolo-scheletriche, non c'è in realtà una vera attenzione sulla salute muscolo-scheletrica, noi per fare qualunque cosa abbiamo bisogno di un muscolo, cioè sia se vogliamo fischiare, sia se vogliamo abbattere una foresta, cioè ci servono dei muscoli funzionanti, quindi la salute dell'apparato muscolo-scheletrico è indispensabile per la nostra autonomia nelle varie attività della vita quotidiana e un'attenzione verso la salute, sia verso la promozione della salute muscolo-scheletrica, verso la cura delle problematiche muscolo-scheletriche al momento non c'è, basti pensare a tutti i pazienti con malattie croniche muscolo-scheletriche che hanno veramente scarsissime possibilità di accesso a delle cure riabilitative, quindi l'idea di questo documento è quella di stabilire dei punti che ovviamente i vari governi del mondo possono adottare, adattare alle loro esigenze per costruire quelle che sono delle strategie sia di promozione che di cura della salute muscolo-scheletrica. Una delle sfide della riabilitazione è che richiede un'alta intensità di supporto specifico o del fisiatra o del fisioterapista. La prospettiva invece di una tele-riabilitazione, quindi di una riabilitazione che sfrutti il digitale, voi come la vedete a livello internazionale visto che ha una visione abbastanza ampia del problema? Allora, io sono assolutamente a favore. Noi in Italia l'abbiamo sperimentata nel periodo del Covid. Il Covid, diciamo, come tutte le cose negative ha dato una grossa spinta anche verso l'innovazione in senso positivo, perché ovviamente i pazienti non potevano fragili, non potevano venire da noi in ospedale, quindi noi li visitavamo attraverso questo strumento a distanza che è quello di una videochiamata alla fine, perché la tele-riabilitazione è una sorta di videochiamata. La tele-riabilitazione è un po' più complessa perché ovviamente richiede delle tecnologie che ci permettono di applicare delle tecniche riabilitative al paziente anche a distanza. In altri paesi del mondo molto grandi, come ad esempio l'Australia oppure anche il Brasile, dove le distanze sono enormi e dove il centro di riabilitazione è più vicino a casa tua, magari a due ore di macchina di distanza, la tele-riabilitazione esisteva già, perché ovviamente non è possibile per un paziente andare tutti i giorni al centro a fare riabilitazione, andare e tornare due ore di macchina. E quindi, diciamo, più che, diciamo, io la vedo come una necessità, più che una cosa fattibile o non fattibile, deve diventare una cosa sempre più facilmente fattibile per chi necessaria. Professore, se invece l'utilizzo di tecnologie cosiddette wearable, indossabili, che misurano, che tracciano il movimento, che quindi consentono al software di sapere se il paziente si sta muovendo secondo lo schema, diciamo, che è più opportuno per lui oppure no. Ecco, le vedo un qualche cosa di imminente di arrivo in Italia oppure ancora abbastanza lontano? Allora, le vedo abbastanza imminenti. In realtà possono avere due utilizzi. Uno per aiutare il paziente a prendere coscienza di quello che è il suo livello di attività fisica. Queste app, in realtà, permettono di calcolare attraverso degli algoritmi qual è il livello di attività fisica ottimale per il paziente con quelle determinate comorbidità. Ci sono delle app che permettono di inviare direttamente i dati del paziente al clinico, che quindi periodicamente può in realtà revisionare quello che è il livello di attività fisica svolto dal paziente. In quel caso c'è anche proprio il feedback del clinico aggiuntivo che poi può, diciamo, aiutare il paziente a modificare le sue abitudini di vita in base a quello che è il livello di attività fisica o quello che già fa e quello che invece deve fare. In passato abbiamo fatto un progetto europeo che si chiama Credits for Health in cui, diciamo, si calcolavano i crediti per la salute che il paziente otteneva facendo le varie attività della vita quotidiana. Lavo i piatti, ottengo determinati crediti. Stiro, ottengo determinati crediti. Sono a lavoro e cammino avanti e indietro per l'ospedale per mezz'ora e ottengo determinati crediti. Quindi a seconda delle attività che si facevano si ottenevano dei crediti per la propria salute e si raggiungevano dei livelli di attività fisica come una sorta di raccolta premi per cui poi il paziente si rendeva conto di come poter modificare le sue abitudini di vita per raggiungere il livello, diciamo, ottimale di attività fisica giornaliero. Comunque, insomma, se ne stanno sviluppando veramente tantissime e saranno di aiuto, certamente. Grazie